Bella a tutti ragazzi, puntata 3 parte 2 di 2 Semplicemente perchè il mio computer ogni tanto non so come mai Allora, nel free speed.pursuit ogni 5 minuti laggava Questo ogni quarto d'ora crasha, porca troia, vabbè Allora, eravamo arrivati che avevo posizionato, avevo già fatto tutto ma Il mio... Il mio buon caro PC Non so come mai gli è venuti in mente di crashare Dai, maledizione, su Posizione, accendi Adesso La valvola, se crasha ancora non so cosa dire raga Avvia Pronti Se crasha Bravo, non crashare Bene Ma alla fine il video è uguale Devo anche evitare Che case Vai Alan Corri Dossa la libertà Ah merda Sto andando dossa le fiamme Bene Restra Ah, di qua Oh, che è? Che è? L'altra volta non c'erano sti qua Oh 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 Dove vai? Ma dove vai? Ma muori No, vai via Dai Qua sto scoppiando tutto Devono venire a rompere i coglioni Fuggi dalla distruzione Vabbè, figuriamoci Andiamo Dai Alan, maledizione Riuscirò a prendere sta pagina il manoscritto, maledizione? Oh, porca troia Oh, che cazzo sono quei colossi? Ehi Via 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 da me Oh Cazzo è Thor? Ma No, Alan Ti dovevi abbassare Porca puttana Oh Oh, bene, bene Boom Vola Figlio di troia Bene Andiamo Non lo so Perché ce ne sono altri Ma che due coglioni Oh, questi sono quelli che si dividono Ah, penso a te io Ma perché si bugga contro le... Nooo, sono morto, non me ne ero accorto Oh, maledizione Non è possibile Via Ma ho lanciato la granata Porca puttana Ah, ecco Oh Oh Raga Posso crepare adesso, eh Finiti Vedi già Cazzo sta... Oh Cristo Mi è sbucato dall'angolo Cos'è? Ma se l'ho schivato Oh 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 Motherfucker Oh Ehi Che culo Muori Che puttana Venite adesso Venite adesso Merda No, non venite, non venite Stavo scherzando Minchia quanti Oh 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 Buona Ma che li ho fatti fuori tutti Vero Perché li ho fatti fuori tutti, vero? Oh, bene, perfetto Che belle parole, Alan Dai Dai Dai, dai, dai Duma Sì, dai, Shura I'm gonna need those keys to the diner now There's a motel key there that I have to get Oh, hey, you don't have to do that I have the motel master key I work for the same company, you know Um, what's at the motel? Well There's a dead guy He's got something I need to get into the Mount Redtooth Observatory God That's awful Hey Um You wanted to know about the guy who looked like you, didn't you? The last time you said he had a party and what you didn't go No, that's not true I did go It was really great at first And then I didn't see it myself But I hear he turned nasty He heard a bunch of guys pretty bad Ah, that's the one That's the one He died But I didn't hear about that until afterwards I thought that he was so charming Grazie, grazie And then he went to the diner That's right I wasn't involved, I wasn't involved with that at all Ma stay tranquilla, lo so che non c'entra niente I need to check out these motel rooms In the meantime You stay here, ok? I'm serious Keep the lights on and stay here Yeah, ok You got it I sure hope you're right Guarda che se sbagli ancora Resta qui stavolta You're going to stay here this time, right? Because the last time I didn't And that thing, whatever it is, happened to me Yeah I don't want you to get hurt again Don't worry, I'm going to stay put I don't remember what happened exactly But I learned my lesson Good It doesn't have to happen exactly the same way this time around You prove that much when you go out I think you're going to be okay Let's hope you're right Bene Quindi rimani lì e non spaccare il cazzo Oh, finalmente possiamo andare a prendere la maledettissima Che male la gola Dunque No, 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 non qua, non qua No, esamino il cazzo, esamino Devo andare a prendere la nota Porca troia La nota, cazzo Dove cazzo è che si esce da qui? Non mi ricordo più Mi sono già perso, maledizione Eccoli qua, di qua, di qua Dai Ma muoviti, Alan Ma dove cazzo sono? Ah, ok Eh, minchia, senso dell'orientamento zero Per un attimo, eh Apri Bravo Bravo Buono 25 Bene, ora posso andare a esaminare il cadavere Prendere le chiavi Il passport tool Il dio bon Eh, dai Aspetta un attimo L'altra volta mi ero venuto fuori anche Esamino Eh, vabbè, niente Trova le chiave all'osservatore Bene Uff Il paladino della luce Bene raga Quindi Anche la Quarta parte No La Quarta puntata Che però devo dividere in due Si può concludere qui Spero che il video vi sia piaciuto Mettete un bel mi piace Commentate o iscrivetevi Ma soprattutto divertitevi Bella a tutti raga Bye look Grazie a tutti Ciao 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 a tutti